Odiare gli altri tanto per odiarli significa che c'è qualcosa che non va con te stesso secondo me quindi una volta che uno ha raggiunto il nirvana, tanto per citare sempre Salvatore è difficile che possa odiare gli altri Allora, il personaggio di Diego Barantuono dice che lui vuole leggere soltanto parole che fanno bene, che siano come il fan, che facciano bene Professor Teri, uscendo da questo film, mi ha avuto questa sensazione, mi sentivo bene questa storia ha fatto lo stesso effetto anche a te? Assolutamente, è una storia che ristora il cuore perché è una scoperta dei sentimenti è una storia padre figlio in cui il padre scopre che può essere un padre, un bravo padre e che non c'è bisogno di avere paura nell'aprire il proprio cuore e farsi toccare nei sentimenti e questo figlio che ha una forma di autismo scopre appunto attraverso questo padre impara a donare al mondo e agli altri tutto il suo folle amore quindi assolutamente è un film che ristora, che fa bene al cuore Viene detto anche che la felicità non è un diritto ma è una botta di culo per sapere se sei d'accordo È vero, è una botta di culo che però secondo me bisogna anche sapersi guadagnare Secondo me bisogna essere predisposti alla felicità nel senso che secondo me la vita ti mette sempre di fronte allo stesso problema tutti i giorni a un certo punto questo problema diventa sempre più forte, bussa sempre più forte e secondo me sei tu che devi ascoltarlo quindi diciamo che bisogna avere anche il coraggio di affrontare i propri limiti Infine il personaggio di Bad Antonovia tutti, il tuo è un po' apatico come si fa a mantenere l'entusiasmo e non farsi stare sulle scatole tutti a un certo punto della propria vita? Come si fa a mantenere l'entusiasmo e non farsi stare sulle scatole Secondo me quando uno fa i conti con se stesso ed è tranquillo con se stesso non può odiare gli altri, nel senso può odiare degli atteggiamenti degli altri come la stupidità, l'ignoranza, l'invadenza ma odiare gli altri tanto per odiarli significa che c'è qualcosa che non va con te stesso secondo me quindi una volta che uno ha raggiunto il nirvana, tanto per citare sempre Salvatore è difficile che possa odiare gli altri questo film appunto, questo mio personaggio avendo chiuso i propri sentimenti, il proprio cuore sedici anni fa abbandonando questa donna incinta e non avendo mai visto suo figlio chiaramente cosa fa? ferisce inconsapevolmente gli altri perché, come dire, va di fiore in fiore quindi va in giro, canta modugno e le donne lo guardano con desiderio e lui si concede per una notte, per brevi momenti e dopodiché fugge ancora, scappa perché? Perché non vuole che il suo cuore metta radici, non vuole aprire il suo cuore ai sentimenti quindi questo potrebbe essere un motivo per cui lui fugge e scappa dagli altri che non vuole avere rapporti con gli altri quindi fino a che non apre quel suo cuore ferito o dirà agli altri, avrà un rapporto apatico appunto con la vita grazie mille grazie a te